Adesso posso dire grazie, già l'ho fatto due volte, però ripetite ogni volta. È una penna rapida, senza ombre, dai buongiorno ai lettori della prima pagina della Stata. Lo vediamo a che tempo che fa l'applauso del Massimo Camillini. Sì, ma io devo giustificare che anche tu come non romano, io ringrazio Giuliani e ringrazio questa città. Io sono arrivato a Roma a 37 anni, era un momento difficile per la mia vita, ero un anonimo cronista sportivo, spiego di sport, invece no, ma questa città, per conto io, più che una lupa, la paragono a una meravigliosa camera che lega tutta la gente, è un animale raccogliente, è una madre, lei ha un'energiafica di mille straordinaria perché quello che è l'unica Roma, per non dire, è un po' che è diventato, ma qui oggi sono residenti a Roma che se vuoi dirlo, pago le tasse Roma, pago le tasse Roma, pago le tasse, capo i giovi, anche qui, ma qui, la paragono a un po' di chiarissima cosa, dico, dopo casa Roma, o di più cari affetti Roma, voto a Roma, se non sono a rischio, però, la stagionazione di Roma, questa, e non c'è più una vita di accogliere, quella di essere in grado di accogliere tutti, senza giustificare nessuno. Noi, società ricordo, viviamo in un modo fatto di continuare a passare il tempo a giocare No, forse perché non ho paura di giocare a noi stessi Roma ti accoglie, sembra, penso è un uomo, sembra un erogatista, ma è sempre molto più saggio che tutti noi che si insieme Sa che tempo scorre, ma che l'accoglienza, sempre giudizionata, è segreto da noi Grazie a tutti Grazie 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 Grazie